Qua è qualità di esperto, sono il più grande pigro della storia di questo paese, capisco quanto sia importante la pigrizia nella vita, capisco quanto ti posso far venire delle belle idee, ma quanto debba anche essere in qualche maniera, come dire, aiutata e combattuta. E quindi mi è sembrata un'idea molto bella, l'ho capita con dieci anni di ritardo, ma con la mia pigrizia ci sono arrivato anch'io. Ecco, pensi che magari qualcosa cambierà nella tua vita dopo aver conosciuto pillole di movimento, abbandonerai la pigrizia e la sedentarietà? Il sogno rimane quello dell'abolizione del lavoro e della vacanza eterna, però magari una vacanza con un po' più di junkie, ecco, non sarebbe male. Circolazione, libertà e circolazione, libertà e circolazione, avrebbe detto Gabben. Perfetto, grazie.